Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Mattino 6, martedì 17 dicembre. Ieri il Senato ha fatto in modo che la cannabis rimanesse illegale, anche quella senza principio attivo, ma prima di approfondire questa notizia su tutte le prime pagine nazionali andiamo in Abruzzo sulla prima pagina pescarese del centro, in primo piano la cronaca. Schianto le muore e grave il marito, spoltore la vittima aveva 73 anni, il coniuge è l'ex comandante dei vigili, si tratta ovviamente di un incidente stradale, lo vedete nella fotonotizia l'automobile distrutta. Fondi europei, la regione, servono buoni progetti, si parla degli incentivi 2021-2027, scalo di Pescara, aeroporto dall'aggiunta 16 milioni per le piste. Lo smog ha le stelle per lo shopping, Pescara, le polveri oltre i limiti di sicurezza, l'esperto sono quelle più a rischio. E ancora Pescara, piano freddo, pronti 70 letti per i senza tetto. A Francavilla i candidati 1, il concorso deve essere ripetuto per quanto riguarda il lavoro. Una notizia che arriva dalle classifiche del sole 24 ore, vivere bene l'Abruzzo cresce, Pescara al primo posto in regione, bene l'Aquila e Chieti. Il report a proposito della qualità della vita. Sul taglio alto, manovra, passa la fiducia ed è caos per la cannabis. La popolare di Bari, scontro tra Di Maio e Banca Italia e Teramo difende la sua Tercas. Andiamo sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto. Tasse contese è nel batte comune. Chieti no al balzello. sulle condotte sotterranee. L'ente perde un tesoretto. Nella fotonotizia l'assessore Carla Di Biase. Scuole controlli a sorpresa. L'assessore assaggia i pasti. La vedete con la cuffietta e il piatto in mano. E ancora Vasto, il Tribunale e la Procura senza perdonare. Personale, Lanciano, i viali chiusi al traffico. Città spaccata in due. La prima pagina di Teramo. Teatro Romano, nuove modifiche. Teramo in consiglio va a un progetto che poi sarà ancora corretto. Tirocini per neolaureati, accordo Ateneo, Confindustria. A Villa Rosa resta in carcere la banda del pestaggio. E a Teramo pensione bis e più soldi ai vigili. Urbani. A Roseto, un boato nella notte scatena il panico. Timori di un'esplosione nella scuola d'annunzio, ma le verifiche poi smentiscono. La prima pagina di L'Aquila, Vezzano e Sulmona. Di Orio chiede danni all'Ateneo, l'ex rettore. Risarcimento per l'attività accademica negata. Nella fotonotizia, studenti del Daosta, speaker con la radio scuola web. Il progetto sperimentale all'Aquila. E a Gran Sasso, opere strategiche ancora. Al Palo, a Sulmona, attorno alla magia del cinema, il Pacifico riapre. E ad Avezzano, anche riacceso il semaforo a Chiappamulte. Il commissario Prevettizio riattiva le telecamere del famigerato T-Red. La prima pagina abruzzese del messaggero. Nel taglio alto la cronaca. Nel frontale muore una donna, grave il marito. Auto con a bordo due giovani invade la corsia. Rigopiano, D'Angelo, non telefonò al coc di penne. Ancora misteri sul presunto depistaggio del processo Rigopiano. Sul Mona, a caso Conti, resta il giallo della sigaretta. Popolare Bari, la politica si mobilita. Febbo, convocheremo un incontro. In Marsilio vanno tutelati i personale e i cittadini. A Teramo i sindacati incontrano il sindaco d'Alberto che dice basta giochetti e ricatti. Come abbiamo visto, l'indagine del Sole 24 ore. Qualità della vita all'Abruzzo migliora in base ai parametri del quotidiano economico-finanziario. La città, il quotidiano di Teramo, salvataggio controllato per la Banca Popolare di Bari. Il nipote di Mattarella, amministratore delegato di Medio Credito, guiderà l'operazione dopo l'iniezione di 900 milioni dal governo. Nella fotonotizia il teatro romano, teatro indefinito, titolato dalla città, qualità della vita, provincia di Teramo in crescita. Nella classifica annuale il Sole 24 ore ci colloca al cinquantasesimo posto su 107. E ancora il taglio alto superiori parte dall'Einstein, parte dell'Einstein trasloca al Comi per creare spazio al Marino. Giulianova colpo fallito alla cassaforte dell'ipermercato. A Roseto servono un milione e mezzo per le spiagge. E ora usciamo dai confini abruzzesi, andiamo sui quotidiani nazionali, a partire dal Corriere della Sera, che come dicevamo titola ovviamente sulla seduta in Senato di ieri. Manovra, fiducia tra gli attriti, dossier di Banca Italia per rispondere alle accuse sulla Popolare di Bari. La vigilanza è stata intensa, sil dal 2010. Renzi serve un cambio di passo. Conte irritato avvia la verifica e lite sulle autonomie. Così i bancari hanno rovinato le loro famiglie a proposito della crisi della Banca Popolare di Bari. Il taglio alto, rubati i 60 milioni, Tamara Eccleston e il furto da Instagram. Ma la politica estera, doppia missione per Di Maio in Libia, da Haftar e Sarrai, il ministro parlerà a nome dell'Unione Europea. A Milano si vive meglio, poi Bolzano e 30, ancora la classifica del Sole 24 Ore, che ha avuto molto risalto. E ancora, rimosso dal Museo del Campitoglio, manifesto blasfemo e scontro sul macro. La coppia del Texas, nella fotonotizia, festeggiano le nozze di Quercia, ben 80 anni per loro. Li vedete in mano con il certificato del Guinness dei Primati, John e Charlotte, innamorati dal 1934. Una storia, a dir poco, rarissima, se non unica. La Repubblica fa ripazzi, non serve. Il Premier cresce nei sondaggi, al contrario di Lega e Italia Viva. Vertice di maggioranza senza leader. Al Senato la manovra passa con 166 voti favorevoli e 128 contrari. Un nuovo stop alla Cannabis Light, Rissen Aula. Per quanto riguarda la Popolare di Bari, l'Europa pronta a dire sì al salvataggio della banca, che sarà a questo punto salvata, come di consueto, con i soldi pubblici. I due bambini usciti dal buio, ora mamma ti vediamo, nella fotonotizia, hanno recuperato la vista grazie alla terapia genetica, prima volta in Italia. Ancora il reportage, la paura di Tripoli con i russi alle porte. Una zona ben lontana dalla stabilizzazione. Andiamo sul Fatto Quotidiano. La fotonotizia a confronto Lamorgese e Salvini, due ministri degli interni, quello attuale e quello precedente. Ministri a confronto, i dati impietosi del Viminale, migranti nell'Unione Europea. Lamorgese batte Salvini 5 a 1. Anno 2019, i ricollocamenti sotto il capo leghista erano 11 al mese, con la ministra giallorosa la media sale a 49. Tra l'altro sono entrambi i dati che provengono dagli accordi che Minniti prese con la Libia. Avvocati, Sentire Salvini fa punteggio, il noto giurista ai corsi di formazione forense. L'inchiesta su San Martino, il renziano catanese, lui in viaggio ma firma la fidanzata. Nel taglio alto, banche e prenditori dal Veneto a Bari sotto il naso di Banchi Italia. Le sardine troppo ecumeniche, primi dibattiti, Liti e Mugugni, dopo il raduno polemiche interne su TV e contenuti. Andiamo avanti con il giornale, la stangata è servita, le tasse su cibo e auto e il monito lanciato dal giornale. Anche Renzi vota la fiducia, testo approvato dopo 70 correzioni. Cannabis, Forza Italia stoppa la droga di Stato. Il piano dei due Matteo, uniti dalla furia dei PM. Il record di espatri nell'Italia degli emigrati, nessuno pensa al lavoro. La funzionaria svedese è sotto inchiesta, l'accusatrice del Mitù all'ONU, licenziata per una truffa sui fondi. E ancora in India, India chiusa agli islamici, paese nel caos, sei morti, la mossa di Modi in fiamma, i radicali, ancora tensioni nel paese emergente. Separarsi non è un tabù, così la Chiesa si fa umana. Il documento shock che potrebbe cambiare il punto di vista del clero. Andiamo sul mattino, il quotidiano di Napoli. Via libera alla manovra che non aiuta i giovani. Primo sì del Senato, Casellati fa saltare la Cannabis Light, 5 Stelle è di parte. Tensione nel governo, Conte rinvia ai temi caldi. Draghi, Renzi, Apri a Salvini. E ancora sul... Vediamo la Popolare di Bari, 5 Stelle contro Banca Italia, l'allarme del Colle e di Palazzo Chigi. Nella fotonotizia a Montevergine, il grande sfregio, rubati i gioielli della Madonna. E a Napoli, Napoli che è da pezzi, ma è spesi 200 milioni di fondi europei. Andiamo avanti sul manifesto. La fotonotizia a Mercato Nero con i banchi della Lega che applaudono il discorso di Matteo Salvini. Con 166 sì, il Senato approva la fiducia sulla manovra e Renzi avverte, serve un cambio di passo. Ma la giornata è stata segnata dallo scontro sullo strappo politico della Presidente Casellati che ha cestinato l'emendamento 5 Stelle sulla legalizzazione della Cannabis Light, quella ovvero senza principio attivo, l'esultanza della destra. Nel taglio alto, tragico naufragio a largo del Marocco, meriterraneo, almeno 7 migranti morti e sono 20 attualmente dispersi. A proposito, oggi di maio a Tripoli e forse a Bengasi, Libia e Gas, Erdogan contro tutti. Infatti non si parlerà di migranti, almeno secondo quanto previsto finora. La crisi libica, il passo d'addio all'ex colonia assediata. E ancora il declinio bussa alla porta del neoliberismo, un neoliberismo al collasso, secondo il manifesto. E ancora l'economia, chi fabbrica bombe climatiche e demografiche, l'inchiesta del manifesto. Iniziato ieri il processo per il depistaggio nel caso Cucchi, l'accusa dei sottoposti, ieri dei carabinieri si sono presentati parte civile contro l'arma perché dicono abbiamo solamente eseguito degli ordini. La Francia, Monsier Pensioni si dimette, oggi sciopero. Budapest, patto delle città libere del gruppo Wisingrad, India Citizen Act. Di fuoco Modi reprime le proteste. In Inghilterra, I'm so sorry, Corbyn, il laborista, scrive agli elettori. Andiamo avanti con il messaggero. Manovra, sì, tra i timori di crisi. Senato che ha la fiducia, Casellati fa saltare la cannabis light, accusa dei grillini e di parte vertice nella notte sull'autonomia. Rinviati i temi caldi, segnale di Renzi a Salvini su Draghi. Si potrebbe raggiungere presto un'intesa tra Salvini e Renzi. La battaglia bipartisan, Roma capitale e fondi per 150 anni, emendamento beffa ridotti al lumicino. Il salvataggio della Popolare di Bari, 5 Stelle contro Banchi Italia, stop di Visco, allarme di Conte per la Commissione. Anastasia aveva dosi da spacciare. Anche Luca sapeva, a proposito del misterioso omicidio a Roma, il ruolo della finanzata di Sacchi. Nei verbali erano nel portafogli, scontri con la suocera. La fotonotizia è dedicata allo Sport, che è sede al novantottesimo, Lazio infinita e a meno tre dalla vetta. Ottava vittoria consecutiva e rimonta a Cagliari, l'uno a due nel recupero. Andiamo avanti con Libero. Nel taglio alto, in primo piano, ci divertiamo ad autoflagellarci, l'accusa di Libero. Paradosso, banche italiane sono tra le migliori d'Europa. Secondo l'Unione Europea, i nostri istituti sono per redditività il ritorno degli investimenti superiori a quelli francesi e tedeschi, ma per il PD in economia dobbiamo obbedire a Merkel e Macron. E ancora, il futuro delle Sardine è un bel fritto misto, l'editoriale di Vittorio Feltri, che scrive in maniera non molto carina, già sputtanata, e carina non nei confronti delle Sardine, ma nei confronti dei suoi lettori. Come per questa foto che vedete a centropagina, Gesù pedofilo al museo si offende un'intera civiltà. Se sei di sinistra, la bessemia è arte. Accusa Libero, scandalizzato, che però sceglie consapevolmente di mettere in prima pagina questa immagine di un Gesù Cristo con una vistosa erezione. Andiamo avanti, sul Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. Ultime correzioni, ecco la manovra. DDL e bilancio, ok del Senato al maxi emendamento. Il testo passa alla Camera. Limature fino all'ultimo plastic tax ridotta a un decimo. Salta la stretta sulle auto. Confermati lo stop all'aumento dell'IVA e il taglio del Cuneo. Ovviamente l'attenzione sulla popolare di Bari. Banchi Italia liquidarla così costa circa 4 miliardi e mezzo. Ispezione parzialmente sfavorevole. Già nel 2010, crisi precipitata. Il governo già sapeva. Domenica sera via al decreto di salvataggio. Stanziati già, come abbiamo visto, 900 milioni per Invitalia. E ancora Commissione Banche. Sono 4-5 stelle in corsa per la Presidenza. La fotonotizia e Benetton pronti alla vendita del 49% degli aeroporti di Roma. Dalla Germania, a rischio il 5G di Huawei, Pechino minaccia ritorzioni. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, proposta parlamentare di CDU e SPD. Il governo teme una crisi con la Cina. Andiamo avanti sulla stampa. Banchi Italia si ribella all'assalto della politica sulla popolare di Bari. Il governatore Visco caccia illusori capri espiatori dell'ite di Maio. Italia viva. Il partito di Renzi. Polemica sul prestito da mezzo miliardo. Erogato all'Istituto Pugliese. E intanto lo sperpero di una cassa per il sud, il racconto della stampa. Ma la fotonodizia è dedicata agli esteri, in particolare all'India. Arrabbia nelle piazze per la legge contro i musulmani. Sei morti e centinaia di feriti. Il bilancio degli scontri con la polizia. Le proteste contro la legge sulla cittadinanza. Tensioni religiose che si protaggono da almeno due secoli in India. Ma andiamo avanti sulla politica estera. Vediamo gli Stati Uniti. Ha tradito la nazione. Atto di accusa a Trump in 658 pagine. L'impeachment per il presidente USA. L'addio dei laureati. 182 mila emigrati negli ultimi decenni. e il Novara si allea in centro. Uniamo la squadra alla città. Andiamo avanti sul tempo. Il quotidiano romano parla parla ma al momento buono. Alla fine Renzi si beve le tasse. Il leader di Tagliaviva Mungugna ma non ha il coraggio di dire no nemmeno a quella che non li va. Dice che Sugar e Plastic Tax colpiscono i lavoratori. Però passano con i voti decisivi del suo gruppo. E ovviamente come sempre sul tempo la vignetta di Osho in centro pagina. Vuoto il blitz stupefacente di Grillini. Salta all'apertura la Cannabis Light. Mo fumatevi la Plastic Tax sembra dire Salvini a Di Maio. E ancora droga nel portavogli di Anastasia per quanto riguarda il caso dell'omicidio a Roma. Le strade sono sempre per rischio. Foglie inquinate e radioattive non le possiamo smaltire. Andiamo avanti sulla verità al quotidiano di Maurizio Belpietro. Tutte le tasse della manovra approvata solo grazie al voto di fiducia. Plastica e zucchero ma anche tabacco. Giochi e affitti dei negozi. Buoni passo web. La legge di bilancio è piena di interventi che aumentano la pressione fiscale. e se non si recuperano 3 miliardi e mezzo di evasione sono dolori. Ma la Cannabis di Stato non passa. Norma stoppata. Gazzarra in Senato. La fotonotizia. Don Bolletta non ha pagato i debiti della casa occupata. Qui gli sgambetti di Banca Italia e Unione Europea alla Popolare di Bari. Bruxelles sblocca 300 milioni. Visco e Compani se ne sono fatti restituire 480 nell'operazione Tercas imposta da loro. L'istituto da salvare, ultimo waltzer di De Bustis, il banchiere preferito da Adalema, tredi con difficoltà. Il Parlamento indaga su nomine e depurazioni all'Inps. In chiesa si canta in coro Bella Ciao e si chiude la bocca sui manifestanti blasfemi. Andiamo avanti sul secolo di Francesco Storace. Sardine e centri sociali. La strana accoppiata, secondo il secolo, il movimento si trasforma in estremismo rosso e si rifugia nei palazzi occupati, mentre in realtà le sardine ringraziano perfino la Digos quando scendono in piazza. Cannabis Light, 5 Stelle va a K.O., l'esultanza della Meloni, l'inciucio di Salvini, spiazza Giorgetti, prova a spiegarlo. Italiani e anche immigrati, via 815 mila in 10 anni. Il secolo XIX gronda il verdetto, slitta gennaio. De Micheli il progetto è uno solo. L'annuncio della ministra Genova, Bucci e Toti, in ritardo di un anno, ma ora c'è una data. Vertice in prefettura sul raddoppio autostradale nel capoluogo Ligure, chieste nuove valutazioni per l'analisi costi-benefici. Nella fotonotizia, dateci un'altra casa, il viadotto Bisagno ci fa paura. Si tratta di un viadotto sulla A12 e gli abitanti hanno paura di un crollo. Le condizioni delle autostrade in Italia, come in Abruzzo, è disastroso. Popolare di Bari, faro Unione Europea sul decreto, Banca Italia rispinge le accuse, manovra ok dal Senato, salta la norma sulla Cannabis Light. All'avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, manovra blindata, senza più Cannabis, fiducia al Senato con 166 sì, stracciate le norme senza coperture, Conte si va avanti. Bruxelles, la Brexit con i popoli e per l'Europa la nostra sfida. Ancora la fuga dei cervelli, sale a livelli record l'Istat, 177 mila italiani e l'estero nel 2018 molti laureati. L'avvenire, come il manifesto, gli unici a dare la notizia di questo naufragio in Marocco, le navi delle ONG ripartono per Natale. Intanto la fotonotizia dedicata al mondo del calcio, no al razzismo, la ci riprova il nuovo impegno della Lega sul piano repressivo e culturale. La repressione in Iran intanto ha già fatto 304 vittime, la denuncia di Amnesty International. E per quanto riguarda la terra dei fuochi in Campania, legami con i tumori. Non serviva di certo questa nuova inchiesta per scoprirla. Andiamo sui quotidiani sportivi, rapidamente. La gazzetta dello sport, un tridente per infilzare l'Europa, si parla di Juve ovviamente, i bianconeri non potevano pescare meglio. Il Lione, un duello d'attacco ideale per Di Gualdo, il trio Meraviglia che ha ripreso la testa in Italia, con questo nome dei tre sintetizzato in Di Gualdo. Ma ancora, sorteggio ottavi Champions, la Juve come vi ho visto suona la carica, ma il campionato, Lazio infinita è a meno tre adesso, vittoria ottava di fila al novantottesimo, due gol nel recupero, adesso Inzaghi a tre punti da Conte. Sarri, a Cagliari successo in rimonta dei biancocelessi per 2-1, reti di Simeone, Luisa Alberto e Caesedo. Il Napoli, serve un'impresa che sfida per Gattuso, nel Tempio di Maradona arriva a Messi col Barca, per quanto riguarda gli ottavi di Champions. L'Atalanta a Sonia, c'è il Valencia, regalo di Natale, la felicità del presidente per Cassi. Ancora nel taglio basso, Ancelotti non stoppa una settimana dall'esonero, dice sì all'Everton, clamoroso Carletto, Kulusevski, Inter, ci vuole il Jolly, accelerata dei Nerazzurri per il baby talento svedese, Di Marco Parma può sbloccare l'affare, ora gli uomini contati sono il vero nodo. Nel 2020, giro tutto stelle per quanto riguarda il ciclismo, Calapaz per il bis, la maglia rosa sarà ecologica. Andiamo sul Corriere dello Sport, il riscatto di Cardi, Leonardo esalta Maurito, macchina da gol ed è pronto a rilevarlo. Felici di averlo al PSG, segna e si comporta in modo esemplare, la conferma dipende soprattutto da lui, tiene molto all'Inter. Napoli e Barca, Messi nel regno di Maradona, e ancora la Juve Pesca Garzia e Lione, Gasp Valencia, Europa League, Laudortes per Conte, la Roma trova il Ghent, Inzaghi il sogno continua ma intanto Batticuare Lazio e Marcia Scudetto, mentre abbiamo visto Ancelotti all'Everton. Tutto Sport sotto il segno del Lione, Juve gran sorteggio, bene anche l'Atalanta, Napoli c'è Messi. Negli ottavi Champions, i francesi per i bianconeri, il Valencia per la Dea, Gattuso trova il Barca, Europa League, Ludo Goretz, Inter e Roma. Gent, squadre molto spesso dai nomi impronunciabili. Il questore si dimetta e i giudici indagino, Toro, lettera di 107 Club. Intanto nella fotonotizia, Felix di Piacervi, il gioco di parole, la gioia del portoghese premiato ieri con il Golden Boy di Tutto Sport, l'orgoglio di Donnarumma, insomma, e lo sportivo di Tutto Sport. E ancora Conte punta alla coppiata, idea Inter, prendere De Paul con Vidal, Vittorio Feltri, come di consueto anche su Tutto Sport, Napoli, il guaio, non è in panchina, mentre comunque si è previsto un tutto esaurito al San Paolo per la partita con il Barcellona. E allora, adesso le previsioni in meteo e subito dopo il break pubblicitario andremo ad approfondire la cronaca abruzziese, sfrolliando pagina per pagina i quotidiani della nostra regione. A tra poco. Di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6, quella cioè in cui andremo a calarci completamente nel nostro abruzzo, sui quotidiani locali. E allora, andiamo subito sul centro, e Pescara, la capitale del vivere bene, l'abbiamo visto in apertura, al report del sole 24 ore, il capoluogo adriatico è al 43esimo posto in Italia, seguito da Chieti al 52esimo, Terramo al 56esimo, e l'Aquila al 61esimo. Ma ancora la regione prima in Italia per inflazione, ma sul carrello della spesa pesano 168 euro in più l'anno. Per quanto riguarda l'Istituto di Previdenza, Busacca alla guida dell'Inps Abruzzo, il nuovo direttore regionale sostituisce Valeria Wittimberga. Ancora Abruzzo, fondi dell'Unione Europea, la regione gioca su quattro tavoli, lavoro, territorio, servizi e cultura sono le sfide. Marsilio, accelerata la capacità di spesa, Borrelli, costituire insieme il futuro. E raccolta anche delle firme per la trasparenza dei cibi. Si è tenuto ieri a Roseto degli Abruzzi questo incontro con i vertici della regione, che hanno incontrato alcuni esponenti della società civile per ascoltare le loro proposte. Allora vediamo il resoconto di questo incontro nel nostro servizio. Il futuro è partecipato. Questo è il tema della giornata che si sta tenendo oggi a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi. un dialogo con il territorio sui nuovi fondi europei 2021-2027. Una kermesse voluta fortemente dal presidente della regione Marco Marsilio per incontrare il territorio e spiegare come la regione si muoverà sull'utilizzo e sulla spesa dei fondi 2021-2027. È fondamentale, non era mai stato fatto in precedenza con questa forma in questa dimensione organizzata. Stiamo ricevendo da tutte le categorie ringraziamenti e apprezzamento per questo lavoro. Io credo che per fare la programmazione buona dal 2021-2027, del prossimo ciclo di programmazione, dobbiamo avere l'umiltà e la capacità di ascoltare. Di ascoltare gli imprenditori, di ascoltare le istituzioni, di ascoltare gli atenei, di ascoltare tutti gli attori della società abruzzese che ci sappiano descrivere i bisogni reali della gente, dei territori, delle imprese e sulla base di quei bisogni reali andare poi a calare la programmazione nel dettaglio. Dopo il presidente della regione Marco Marsilio, anche l'assessore al turismo e le attività produttive Mauro Febo ha spiegato come si muoverà la regione soprattutto nei prossimi anni. Primo anno di gestione, abbiamo già superato la comunicazione che abbiamo fatto alla Commissione europea, i dati che ha il nostro possesso al 6 dicembre già ci dicono che abbiamo superato di oltre il 10% l'obiettivo N più 3, cioè l'obiettivo della rendicondazione. Noi continuiamo, noi abbiamo, in Abruzza abbiamo di fronte una grande sfida perché ci sono alcuni settori che sono in forte espansione come quello della spesa economy su cui dobbiamo rimanere sul pezzo e abbiamo poi l'automotive che è un settore tra i nanni su cui però c'è la spada di Damocle del 2023 la produzione dovrebbe passare in elettrico con tutta una serie di problemi che si cominciano ad intravedere e anche di eventuali soluzioni. Quindi massima attenzione, io continuo a dire massima attenzione soprattutto al credito che langue che soprattutto non riesce a darci soddisfazione per quanto riguarda le piccole e medie aziende. E a proposito della programmazione 2021-2027 di quanto comunque anche quello che succede lontano abbia delle ripercussioni sul nostro Abruzzo meno risorse e più attenzione all'ambiente nel programma dei prossimi sette anni peseranno la Brexit e la convergenza con i paesi dell'Est. E ancora va in orbita il satellite che parla abruzzese ci saranno sicuramente problemi di comunicazione con gli extraterrestri parla abruzzese perché l'azienda che lo ha lanciato ha anche una sede all'Aquila. Andiamo avanti, stanziati più di 16 milioni per potenziare l'aeroporto la regione ha dato il via libera al finanziamento derivante da fondi Masterplan tra le opere e l'allungamento della pista Marsilio e Febbo e ora le gare d'appalto bilancio oggi inizia l'iter in commissione per quanto riguarda il Consiglio regionale sindacati e imprenditori bene l'intesa per la portualità la firma tra Regione Abruzzo e Ancona a Pescara coppia si schianta in auto muore la moglie la vittima è Gabriella Scorrano di 73 anni gravissimo il marito di 74 ex comandante della municipale vedete le condizioni di questa Fiat 600 nelle immagini andiamo avanti smog alle stelle per lo shopping polveri oltre i limiti di sicurezza domenica scorsa registrati nuovi superamenti del PM 2,5 dalle centraline in centro e a Porta Nuova valori nella norma a Villa del Fuoco sotto accusa l'aumento delle auto in circolazione nel weekend e l'inquinante più rischioso per la salute dice il biologo Damiani lo sforamento delle micropolveri causato dall'aumento delle auto in circolazione Parco di Cocco puzza e degrado e a basket si gioca senza canestro per quanto riguarda appunto l'ex caserma a Porta Nuova Ateneo no definitivo all'ex cofa ma la nuova sede sarà a Pescara il rettore Caputi archivia l'ipotesi di realizzare un campus nell'ex mercato del Lungomare Sud e avverte necessario adeguare le strutture di Viale Pindaro pronti a investire i nostri soldi mentre Masci ha garantito che nella zona dell'ex cofa non c'è andrà un privato ma solamente un ente pubblico intanto il comune bilancio presentati 700 emendamenti e l'iniziativa di beneficenza contro i tumori nel concerto di Natale andiamo avanti scatta il piano freddo in via Lago Sant'Angelo 70 letti per il senza tetto da quest'anno i clochard avranno a disposizione anche acqua calda l'ex scuola aperta fino al 17 febbraio grazie alle associazioni di volontari ricordiamo in questo periodo freddissimo di rivolgere un pensiero ai senza tetto ne sono già morti alcuni lungo la nostra penisola associazione salvamento pescara vuoi vestirti da Bobbo Natale appello per l'evento di beneficenza sono tanti gli eventi di beneficenza a ridosso del Natale in Montesilvano c'è il presepe vivente con 500 bambini strade chiuse dalle 9 la manifestazione è in programma oggi dalle 18.30 Pianella stroncato da un infarto al bar tragedia in piedocentro un settantenne nonostante i soccorsi immediati non c'è stato nulla da fare c'è un unico candidato nuovo bando del concorso a Francavilla la società che gestisce la raccolta tributi e la mensa scolastica cerca personale ma dopo la presentazione di una scuola di una sola domanda rifà l'avviso scade il 9 di gennaio intanto la fotonotizia soccorso nautico con i cani di salvataggio Sea Rescue Dog compie 10 anni andiamo avanti cinghiali in aumento col diretti lancia all'allarme il presidente dell'associazione incursione in crescita rispetto agli anni passati danni ai raccolti e problemi di sicurezza nei centri abitati e sulle strade e 70 cacciatori chiedono di rivedere l'assegnazione delle aree vedete nella immagine cinghiali al ridosso del centro abitato di Penne andiamo avanti sulla pagina di Chieti scontro in tribunale scoppia la lite sulle tasse l'Enel batte il comune i giudici dicono no al balzello sulle condotte sotterranee accolto il ricorso presentato dal colosso dell'energia e l'ente perde centinaia di migliaia di euro e sempre a Chieti i carabinieri vanno nei paesi per le elezioni antitruffe specialmente rivolte agli anziani scuole controlli a sorpresa la di Biase assaggia i pasti l'assessore tra gli alunni valuta il servizio refezione dalla qualità dei cibi alle tariffe blizza l'Antonelli pietanze nella sufficienza ma troppi genitori non pagano le rette vediamo qui nelle immagini la di Biase assessore alla pubblica istruzione di Chieti che assaggia appunto il cibo delle menze scolastiche come un giudice di un talent culinario che tanto vanno in voga ora andiamo a Teramo Teatro Romano il progetto cambierà quello attuale è definitivo solo sulla carta va integrato con le prescrizioni tassative della soprintendenza e ancora tirocini nelle aziende per i giovani laureati convenzione tra Università di Teramo e Confindustria e l'intesa firmata ieri che avrà una durata trentennale L'Aspora investe 3 milioni per i nuovi servizi sociali i prestiti previsti miglioramenti delle attività assistenziali di Atri Giulianova e Mutignano nascono due strutture aggregative e un rifugio nel territorio di Valfino andiamo all'Aquila di Orio ora chiede i danni all'università l'ex rettore al contrattacco avviata la richiesta di risarcimento per i due anni e sette mesi di attività accademica che li sono stati negati per il corso dei processi se non fosse già in pensione l'ex senatore potrebbe tornare in cattedra il caso degli avvocati che l'istituzione ora deve pagare per gli esposti alla Corte dei Conti sugli affitti e ancora comune l'opposizione la maggioranza sta litigando invece di parlare del bilancio scuole le proposte per il ministro Romano e Palumbo ricostruzione il comune non applica le norme andiamo avanti prima di leggere lo sport andiamo sul messaggero le pagine dedicate all'Abruzzo la crisi della Popolare di Bari in apertura banca salvata dal governo timori per i risparmiatori dopo il decreto che nomina i commissari e stanzia 900 milioni la politica si mobilita febbo convocheremo un incontro Marsilio tutelare personale e cittadini e come tra l'altro per questa questione della Banca Popolare di Bari la provincia che potrebbe essere quella più corpita sarà quella di Teramo perché la maggior parte delle filiali quasi il 50% si trova lì per un bacino di 420 lavoratori allora approfondiamo questa questione con un particolare occhio nel Teramano nel nostro servizio è un parlare sottovoce carico di preoccupazione ma anche tanto sangue freddo e lucidità nell'affrontare un momento difficile della propria banca è stato questo l'atteggiamento dei clienti Teramani della Banca Popolare di Bari che questa mattina si sono risvegliati con l'incubo del commissariamento dell'istituto di credito in centinaia si sono riversati negli sportelli delle filiali non per ritirare i propri soldi piuttosto per onorare la scadenza dell'Imu la Banca Popolare di Bari è una banca cooperativa per azioni fondata a Bari nel 1960 radicata in Puglia dispone di una rete di oltre 368 filiali dislocate in 13 regioni distribuite oltre che nel sud anche nel centro e nel nord dell'Italia con circa 3.300 dipendenti e 70.000 soci solo in Abruzzo l'istituto pugliese ha 99 filiali la maggior parte in provincia di Teramo dove sono presenti 52 sportelli con 420 lavoratori la banca ha chiuso il primo semestre del 2019 con una perdita netta di 73,3 milioni lo Stato ha stanziato 900 milioni di euro per il suo salvataggio che verranno dati all'istituto nel 2020 dopo un piano di ristrutturazione che prevede tra le altre cose circa 800 esuberi il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha immediatamente convocato un incontro in municipio con i sindacati per affrontare la delicata questione occupazionale che si potrebbe verificare a breve 800 esuberi come andrà per l'Abruzzo e per la provincia di Teramo 800 esuberi 99 filiali in Abruzzo della Popolare di Bari la maggior parte a Teramo perché sono 52 gli sportelli a Teramo e sono 420 lavoratori quindi non può che esserci da parte nostra una grande attenzione una grande in qualche modo chiederemo anche stamattina di fare anche un tavolo magari con la regione con i parlamentari perché qui parte in qualche modo c'è un problema sicuramente occupazionale va garantito l'occupazione a questi lavoratori va garantito in qualche modo la continuità dei loro posti di lavoro anche perché sono lavoratori che in questi anni nonostante le grandi pressioni ci sono state nonostante anche diciamo una condizione di incertezza che la banca in qualche modo ha subito e che vive da parecchi anni hanno comunque diciamo dato massima disponibilità e massima dedizione e questo è sicuramente il primo problema però accanto a questo c'è anche un interrogativo un interrogativo che cosa succede nel territorio perché probabilmente una vicenda di questo tipo insomma che si somma a tante fragilità che questo territorio ha misurato negli anni significa che potremmo avere una diciamo una ricaduta su quella che è magari l'affidabilità del territorio di quella che è in pratica anche l'accesso al credito soprattutto nel territorio un territorio come questo fatto di piccole e micro aziende ha bisogno invece di avere comunque un altro tipo di disponibilità il timore di tutti è che questo territorio abruzzese ma soprattutto quello terramano possa sembrare ancora meno competitivo a livello economico e di investimenti industriali serve a garantire maggiore accesso al credito e rilancio complessivo torniamo ora sul messaggero sulle pagine di Pescara le opere del futuro ferme da 20 anni area di risulta ex cofa e filovia simbolo della paralisi di Pescara e di una politica priva di visione e concretezza al di là ovviamente degli schieramenti politici che si sono alternati in questi anni nella lista casa di riposo di via Arapietra città della musica e museo del mare al teatro Michetti il pasticcio più grave tre donne abruzzesi con Di Maio nel team del futuro una rivoluzione 5 stelle Erika Sabatini coordinatrice nazionale Erika Alessandrini e Daniela Torto tra i facilitatori quindi gli esponenti abruzzesi dei 5 stelle che fanno carriera Università Lexcova lettera del rettore a Masci riapre i giochi dopo il no dell'università la missiva tiene viva l'ipotesi ed evita modifiche sul DUP pioggia di emendamenti allunga i tempi bilancio a rischio andiamo avanti con la cronaca muore nel frontale il marito in fin di vita auto con due giovani invade la corsia e c'entra Paolo Cecamore con la moglie che ha perso la vita ma Rigopiano D'Angelo non telefonò al COC D'Angelo è il cameriere dell'hotel che perse la vita e pare che già ore prima avesse chiesto aiuti al COC di Penne ma nel processo per il depistaggio pare sia emerso che non telefonò al COC o almeno questo è quello che dice Brunozzi che ribatte alle accuse e contrattacca l'Aquila Accordo Fenix ha processo i tre dirigenti dell'azienda la procura conferma anche i sequestri congelati i 5 milioni di euro ottenuti finora si teme per il proseguo dell'attività al Tecnopolo operano 50 persone intanto la Lega rompe la maggioranza e ai ferri corti per quanto riguarda la politica del capoluogo regionale moleste una bimba e i suoi genitori violenza sessuale il PM chiede condanna a 5 anni la sanità cure diagnosi in rosa il San Salvatore tra le eccellenze Ingegneria l'incognita e la ricostruzione ma andiamo rapidamente avanti su Chieti Mensa spariti 4 mila pasti ovviamente non li ha mangiati tutti l'assessore di Biase che vedete in foto che dice è intollerabile la vicenda scoperta dopo i controlli contro gli sprechi voluti dall'assessore andiamo avanti su Teramo Popolare di Bari SOS aziende piccole imprese da tutelare Lanciotti della Camera di Commercio siamo preoccupati per il credito e Zeppilli di Confindustria stiamo uscendo da un disastro tra sisma crisi e viabilità questione questa della banca che come abbiamo visto nel servizio riguarda tutto l'Abruzzo tutta l'Italia ma in particolare la provincia di Teramo a 14 traffico e caos e code più controlli Natale la polizia stradale è pronta ad affrontare l'emergenza nel weekend prima delle feste lungo il tratto sotto sequestro disagi per la chiusura del casello di Roseto il sindaco ha chiesto ottenuto l'apertura di un tavolo permanente a proposito di viabilità buche e criticità molte strade a rischio chiusura nella Val Vibrata andiamo rapidamente sulla città il quotidiano della provincia di Teramo leggiamo le notizie più importanti l'Abruzzo è la regione più costosa d'Italia per l'Unione Nazionale dei Consumatori ogni famiglia di tre componenti riceve una batossa di 168 euro su base annua dopo l'Abruzzo ci sono la Puglia incremento dei prezzi pari allo 0,6% il Piemonte con l'inflazione a più 0,4 e anche il calcio femminile contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro a Pescara le giocatrici e la dirigenza hanno incontrato la consigliera di parità Brandi Ferri prima della sfida con il Catania andiamo avanti il nipote di Mattarella guiderà il salvataggio l'amministratore delegato del Medio Credito Medio Credito entrerà nel capitale della banca dopo l'iniezione di 900 milioni di Invitaglia andiamo avanti il progetto Teatro Romano questo sconosciuto il Consiglio Comunale del 23 dicembre approverà un definitivo senza rilievi fondamentali della sovrintendenza e allora siamo in dirittura d'arrivo rivediamo le notizie dello sport più importanti che caratterizzano la nostra regione quindi andiamo subito sulla serie B vediamo qui uno Zauri pensieroso dopo l'ultima batosta a Frosinone gol e punti l'albero di Natale è l'ideale finora cinque moduli e tanti esperimenti ma il sistema di gioco 4-3-2-1 è quello che ha dato più certezze e garanzie a Zauri che finora di moduli ne ha cambiati parecchi ecco appunto in 16 partite tanti cambiamenti hanno portato ad una precisa fisionomia della squadra domenica con il Trapani si dovrebbe tornare all'assetto che ha portato più punti quello dell'albero di Natale proprio per a prepararci anche alle vacanze Trissi del Pisa il Trapani cade in casa Pinato e Moscardelli doppietta lanciano i Toscani in zona playoff i siciliani saranno i prossimi avversari del Pescara la Serie C il Teramo Iachini mi aspettavo di più e voglio i playoff il patron bianco-rosso lasciato per strada qualche punto di troppo ma niente drammi il mercato arriva un terzino promette il presidente sciopero Lega Pro per avere la defiscalizzazione domenica non si giocherà se nell'incontro di domani con il ministro non ci saranno delle aperture e ancora la Serie D Chieti Sarrizzu è fatta il notaresco prova Gomis i neroverdi con il nodo Traini da sciogliere l'Avezzano va avanti con i cuori il Real Giulianova mette in uscita in uscita Bifulco e Suriano piace il difensore Sbardella siamo in pieno calciomercato ricordiamo in Serie D il notaresco è a più 10 dalla seconda Lanciano Castelnuovo è già un bivio in eccellenza i rossoneri devono vincere per sperare divorzio Renato Curi Angolana Miani invece la promozione l'Aquila aspetta il Mutignano per poter spiccare il volo ma allora leggiamo anche come il messaggero interpreta il mercato sportivo andiamo rapidamente alle pagine dello sport Pescara Zauri si gioca il futuro a rischio il tecnico Biancazzurro domenica prossima la svolta contro il Trapani il tecnico deve vincere per salvare la panchina la società ribadisce la fiducia nell'allenatore ma cresce il malessere del patron Daniele Sebastiani e Marchetti vuole rescindere col Genoa è pronto il Delfino a reclutarlo club nella storia addirittura notaresco dei record 10 punti di vantaggio hanno incrementato il distacco nei confronti della Re Canatesi ora c'è Gomis in Pol un notaresco che sta facendo un'annata bellissima col suo bomber Sansovini Teramo e con Ghirelli Iachini fiducia a Tedino la società approva la linea dura che potrebbe portare allo sciopero domenica oggi vertice con Gualtieri delusione per i punti persi ma si va avanti con il tecnico andiamo avanti con il volley super sieco il sogno continua Ortona a gonfie vele marcia solitaria in testa qualificazione in Coppa Italia quasi ipotecata Pierricce Jones questo è Roseto per quanto riguarda il basket c'è entusiasmo a Roseto degli Abruzzi il capitano e il neoacquisto laureato in scrittura il successo su Ferrara come una commedia leggiamo anche rapidamente come il quotidiano di Teramo ci darà le notizie sportive ci sarà sicuramente in primo piano la serie C cercasi Teramo disperatamente pochi successi alibi a non finire contro il Catania lo stesso identico spartito di tutta l'andata e il girone non è una giustificazione anzi sottintende nel suo articolo Jacopo Forcella la Lega Pro sciopera nel weekend non si gioca l'annuncio del presidente Ghirelli decisione meditata serve dare un futuro a questo calcio il basket Bobby Boom Roseto Agnienta Ferrara Jones mette a referto 25 punti nelle zone calde sono gli squali gli unici a gioire salendo all'undicesimo posto mentre niente effetto Palascate Teramo si arrende ad Ancona per 57 a 68 e ancora percorriamo Giulianova in 300 al Via la gara è stata accompagnata da un sole splendente non sono stati registrati incidente sul percorso per quanto riguarda la maratonina di 10 km a Giulianova e ancora sport basket in carrozzina la Micacci cede in casa al Palamagetti passa Cantù e ancora basket il ritorno inizia la grande per la Teramo a Spicchi vittoria con il nuovo basket aquilano Sirpe ottima prova adesso continuiamo così e allora per oggi è tutto per questo martedì 17 dicembre mattino 6 finisce qui però l'informazione torna alle ore 14 con il TG6 io vi ringrazio per aver iniziato la giornata con noi e vi auguro un buona giornata a Grazie a tutti.